la faida tra il principe harry e il principe william è molto profonda secondo pierce morgan nonostante i fratelli si siano riuniti per svelare una statua della loro defunta madre la principessa diana oggi i fratelli reali hanno celebrato quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno della principessa diana svelando una statua in bronzo che raffigura la principessa del gallese insieme a tre bambini questa riunione arriva tra le voci di una spaccatura tra i due fratelli ma ora pierce morgan ha messo da parte la loro uscita pubblica e ha affermato che la loro divisione è molto profonda e molto furiosamente nella sua ultima rubrica sul mail online ha scritto sì hanno sorriso alle telecamere e hanno messo in mostra un apparentemente calorosa dimostrazione di unità ed è stato bello vedere ma i due uomini hanno avuto decenni per esercitarsi a nascondere i loro veri sentimenti al pubblico e fidati di me è facile l'ex presentatore di good morning britain ha continuato a dire come le apparenze possono essere ingannevoli ha detto sono sicuro che la divisione tra i fratelli è molto profonda e molto furiosa come potrebbe non farlo visto come harry e sua moglie megan hanno pubblicamente cestinato la famiglia reale sulla televisione globale quest'anno tuttavia il signor morgan ha detto che l'unica cosa che potrebbe riportare i fratelli insieme sarebbe la loro madre ha continuato la faida tra william e harry avrebbe spezzato il cuore di diana ha vissuto per quei ragazzi e li ha inondati di amore e affetto costanti e sarebbe stata devastata nel vederli inondarsi di vetriolo e odio negli ultimi anni sono sicuro che l'avrebbe fermato se fosse stata ancora viva ma non lo è quindi sta a loro decidere tra loro dopo l'inaugurazione della statua william e harry hanno rilasciato una dichiarazione che diceva oggi in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di nostra madre ricordiamo il suo amore forza e carattere qualità che l'hanno resa una forza per il bene in tutto il mondo cambiando in meglio innumerevoli vite